Ieri il Centro Europeo per le Malattie ha avvertito che la pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante. A parte che si esprimono quasi tutti con il condizionale, sento delle cose meravigliose. Sarebbe possibile, potrebbe essere, chissà se succederà, che Omicron non sia l'ultima variante. È un'ovvietà assoluta per un virus che rimane. La domanda è, sarà rilevante la prossima variante? Sì o no? Sarà peggiore, più cattiva, più contagiosa? Più cattiva tenderei ad escluderlo, anche se qualcuno ha detto il contrario. Più contagiosa forse sì, ma noi dobbiamo imparare a guardare ormai a un virus che circola fra di noi, ma che fa poco danno tra i vaccinati. Quindi il ragionamento dobbiamo un po' rivederlo. Ecco, il tema del vaccino, appunto, perché il tema quarta dose in Israele l'hanno cominciato a fare, qualcuno dice che non serve, qualcun altro dice che sarà necessaria. Beh, ci sono tre categorie su cui ragionare. I pazienti fragili. Sui fragili da sempre noi aggiungiamo una dose, perché il fragile non montano a risposta immunitaria adeguata. Ma, mi scusi, non mi sono espressa bene nella domanda. Una quarta predispone una quinta, una sesta, cioè un richiamo annuale, oppure con tre... E stavo arrivando agli altri due. Ok, perfetto. Se il virus si comporterà come il virus influenzale, che non è un richiamo, ogni anno è un virus diverso, è un vaccino diverso, avremo la quarta, la quinta, la sesta, la settima, che sarà sempre la prima, perché ogni anno cambia il virus. Ma se il virus non cambia, noi abbiamo imparato dalle vaccinazioni dell'infanzia che con tre dosi li copriamo tutti. Quindi stiamo aspettando che questa anguilla, che si chiama SARS-CoV-2, ci faccia sapere che vuole fare. Ecco, però, ad esempio, sull'influenza, io ad esempio non mi sono mai vaccinata, perché sono una contro l'influenza, mi sono vaccinata solo quando era raccomandato in epoca Covid, perché non ho mai preso un'influenza in vita mia, non ho mai avuto la febbre alta, per cui sono cinquantenne, per cui non era necessario, non era raccomandato particolarmente. Nel caso del Covid sarà sempre necessario e raccomandato vaccinarsi? Non potrebbe arrivare ad un punto che dopo Omicron c'è una cosa ancora più lieve per cui alla fine non servirà nemmeno vaccinarsi. Ti prendi il Covid, come ci prendiamo l'influenza? In realtà c'è entrato il punto, Serena. Noi abbiamo detto e suggerito di vaccinare tutti anche per discriminare il Covid dall'influenza. Sapendo che sono due cose completamente diverse, la vaccinazione dell'uno non copre dall'altro, dobbiamo chiarirci. E l'influenza può esacerbare il Covid, ma se il Covid sarà, non so, condizionale, sempre più gentile, potrebbe non essere necessaria la vaccinazione anti-influenzale per tutti. Rimane necessaria per i fragili. Intanto vi ricordo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato l'11 febbraio. La mortalità per Covid è 23 volte più alta fra i non vaccinati rispetto a chi è protetto col booster. Il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati risulta circa 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da almeno 120 giorni. E così via, tasso di ricoveri e efficacia contro la malattia severa. Insomma, mi sembra che più o meno questo sia un dato assodato per tutti. Prego. Quel 23 volte è la media di tutte le età. Se andiamo a guardare sopra gli over 80 è 60-70 volte.